...lo paesino e... Le due madrie non devono pascolare più sulla mia terra. Non posso impedirglielo con la forza. Ora ti faccio vedere io come dovrai farlo. Ti darò una lezione che non dimenticherai facilmente. Non mi fai paura. Sono pronto a ricacciarti in gola queste parole. In guardia. Non mi fai paura. Sono pronto a ricacciarti in gola queste parole. Non mi fai paura. Sono pronto a ricacciarti in gola queste parole. Non mi fai paura. Sono pronto a ricacciarti in gola queste parole. Fermi! Fermi per carità di Dio! Fratelli! Perché volete maltrattare il dono più bello che ci ha fatto nostro Signore? La vita! Deponete queste spade e ascoltate il vostro cuore. La bontà che esso contiene. Lasciatela libera di agire sulle vostre menti. Il Signore e Dio con la Sua misericordia vi guiderà verso il perdono. Pensate alle offese ricevute da Gesù Cristo. Eppure Egli ci ha lasciato un messaggio d'amore quando ci ha detto di forgere l'altra guancia. Lui che è stato deriso, picchiato e crocifisso. Anche nel momento del trapasso doloroso ha avuto parole di perdono per i Suoi aguzzini. Ora che noi, miseri, su questa terra abbiamo motivo di attrito con un nostro fratello. Possiamo guardare al comportamento di Gesù e perdonare l'altro. Su! Su, fratelli! Fate che le vostre mani non si lordino di sangue ma si stringano in una stretta d'amore. Coraggio! Ecco, ora tornate alle vostre case e donatevi l'un l'altro e pacatamente risolvete ogni questione. Grazie, Padre. Io l'ho capito e vi ringrazio. Vi chiamate? Sono Pompilio Maria di San Nicola, delle scuole Pie. Ora che vi siete ritrovati, fratelli, festeggiate la grande gioia che avete dato al nostro Signore e che la nostra bella Mamma Celeste vigili sempre su di voi. Andate in pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.